Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense. Tra poco faremo il punto sulla campagna vaccinale. Poco fa ha parlato l'assessore regionale Donini. Sentiremo le novità che ha appunto ufficializzato nel corso di questa conferenza, ma purtroppo intanto diamo un'occhiata al bollettino. Ci sono ancora due decessi con lo stesso numero di positivi. Sono 54 invece i guariti in provincia di Ferrara. Per quello che riguarda altre notizie invece parleremo del petrolchimico. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto chiedono la convocazione di un tavolo, mentre invece dal Cune di Ferrara oggi è arrivata l'approvazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Qui vi spiegheremo i dettagli a riguardo e andremo anche a Copparo perché Villa Mensa si presenta restaurata in occasione del Tenda Summer School. Come dicevo però in apertura, apriamo subito sulla campagna vaccinale. Se arriverà lo scatto delle forniture di dosi di vaccino verso fine aprile, a Ferrara e in tutta Emilia Romagna dal 26 aprile prenderanno il via le prenotazioni per chi ha tra i 65 e i 69 anni, mentre dal 10 maggio l'età coinvolta sarà dai 60 ai 64 anni. E quanto emerge dal punto sulla campagna vaccinale fatto nel pomeriggio dall'assessore della regione Emilia Romagna Raffaele Donini che ha dichiarato la nostra regione è tra quelle che riescono a somministrare i vaccini più velocemente in Italia. Sostiene appunto Donini, secondo cui la regione ha tra i numeri più alti a livello nazionale di immunizzati. La macchina vaccinale procede al massimo, quindi non possiamo fare altro che sollecitare il governo per avere più vaccini. Questa appunto la posizione dell'assessore che ha annunciato anche presto l'introduzione della vaccinazione per chi soffre di obesità si è dimostrato dal calcolo dell'indice di massa corporea in farmacia. Per quello che riguarda il capitolo Johnson & Johnson la regione è in attesa di comunicazioni dopo il ritardo delle forniture in Europa e dal 16 aprile comunque dovrebbero arrivare 12.000 dosi. Come dicevamo proprio poco fa facciamo anche il bilancio del bollettino odierno, vediamo dunque quali sono appunto i numeri di questa giornata in provincia di Ferrara e in generale nella regione Emilia Romagna. Vediamo. Nonostante siano meno rispetto al giorno precedente continuano a registrarsi decessi sul territorio estense per probabili complicazioni legate al covid una donna di 85 anni e un uomo di 73 anni, 28 le vittime nel resto della regione. Crescono di pari passo invece i nuovi positivi e i tamponi eseguiti nel bollettino odierno rispetto al giorno precedente, 54 casi su 447 tamponi e lo stesso numero di ferraresi, 54, sono guariti nello stesso lasso di tempo e sono in forte calo rispetto al dato precedente. Nel ferrarese si sta viaggiando sui 174 casi su 100.000 abitanti, due settimane fa erano il doppio, la soglia critica è 250, le persone positive in provincia di Ferrara sono al momento circa 3060. Pressione importante ma stabile sulle ospedali ferraresi in cui si curano i pazienti affetti da covid. Capitolo vaccini, crescono leggermente le dosi somministrate nel ferrarese tra un giorno e l'altro. Mercoledì sono state quasi 2.000 per un totale di oltre 105.000 somministrazioni da inizio campagna, 32.575 i ferraresi immunizzati. Se ci spostiamo in Emilia Romagna, l'aggiornamento dell'emergenza covid su oltre 27.000 tamponi effettuati vede circa 860 nuovi positivi con un tasso di incidenza stabile al 3,1%, 660 nuovi guariti e in calo ai ricoveri negli ospedali di Emiliano Romagnoli. Intanto nel ferrarese iniziano i primi segnali di miglioramento in merito alla curva dei contagi mentre la campagna vaccinale si riorganizza e accelera su over 70 e fragili. Gli esperti ferraresi intanto rassicurano sui vaccini in uso compreso quello di AstraZeneca e di questo si è parlato nel nuovo appuntamento con Salute Focus Ferrara, forma di informazione a cura dell'azienda OSL di Ferrara. Vediamo. La campagna vaccinale ferrarese vede già concluse le prime dosi a tutti gli over 80 che si erano prenotati con una copertura dell'85%. Per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, il 63% dei ferraresi ha già ricevuto la prima dose, concluse intanto le somministrazioni con entrambe le dosi per i disabili e gli ospiti delle CRA. Nella fascia di età compresa tra 75 e 79 anni la metà ha già ricevuto la prima dose. A dirlo Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda OSL di Ferrara, gli over 70 stanno prenotando il proprio turno dal lunedì e nel ferrarese lo stop alle categorie professionali come imposto dalla nuova ordinanza del commissario Figliuolo non c'è stato perché insegnanti e forze dell'ordine hanno tutti già ricevuto la prima dose e potranno ricevere nei tempi stabiliti la seconda. Quanto ai rischi e alle patologie rarissime che potrebbero essere conseguenti alla somministrazione del vaccino, a fare chiarezza è stato il professor Antonio Cuneo, direttore delle ematologie di Kona. Non esiste il rischio zero ma la tromboembolia in questione è un evento rarissimo. Il messaggio è che questa rarissima forma di consumo di piastrine conseguenti a trombosi nei vasi del cervello e a livello addominale in prevalenza non ha fattori predisponenti. Quello che sappiamo è che si è verificato in prevalenza al di sotto dei 50 anni e in larga prevalenza in soggetti di sesso femminile. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Si tratta, ripeto, di qualche decina di cari su milioni di vaccinati. Arriva a dire l'alta efficacia dei vaccini oggi in uso, in particolare per quanto riguarda la protezione dei rischi clinici del virus, è stato anche il professor Giovanni Gabutti. Gli obiettivi possono essere due. Il primo è la protezione nei confronti dell'infezione. Io mi vaccino, risulto protetto e non vengo aggredito dal nuovo virus. Questo è il concetto di protezione dell'infezione, che è intuibile, è completamente diverso dal concetto Io mi vaccino, rispondo alla vaccinazione e sono protetto dalle conseguenze dell'infezione, cioè la malattia. Ora, per quanto se ne sa oggi, i vaccini che abbiamo nella nostra disponibilità al momento sono tutti efficaci, e mi sento di dire molto efficaci in alcuni casi, nei confronti della malattia, della patologia, in particolare delle forme severe, quindi evitano i quadri clinici pesanti, le ospedalizzazioni, i decessi. Abbiamo qualche informazione in meno, o se preferite qualche dubbio in più, su quella che è la reale efficacia nei confronti dell'infezione. È molto probabile che questo sia effettivamente presente, quindi non è che ce ne sia uno che protegge dall'infezione e l'altro che protegge dalla forma clinica. Tutti hanno la caratteristica di essere protettivi nei confronti della forma clinica e non abbiamo date sufficienza per poter dire, con sicurezza assoluta, che proteggano anche dall'infezione, anche se questo è altamente probabile. Però dobbiamo anche essere consapevoli che fin quando non avremo l'assoluta certezza, sarà indispensabile che i soggetti vaccinati con qualsiasi dei vaccini attualmente disponibili continuino a seguire quelle che sono le norme di prudenza o igienico-sanitarie in uso. E adesso invece parliamo di economia, sempre legata ovviamente alla pandemia, riaperture in sicurezza e date certe. Questo chiedono gli imprenditori del mondo della ristorazione e i 150 rappresentanti territoriali di Confcommercio che si sono trovati ieri a Roma a sei mesi dalla prima manifestazione. Un'assemblea straordinaria in piazza, nella cornice di Piazza San Silvestro, a cui ha partecipato anche il ferrarese Matteo Musacci, presidente locale e regionale, nonché vicepresidente nazionale della FIPE, ovvero la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Ascom. Lo sentiamo. Vogliamo una data perché dopo più di un anno di chiusure o aperture a metà, o si ha e si dà una prospettiva di futuro, oppure il futuro del nostro comparto non ci sarà, perché il futuro siamo noi. Vogliamo una data perché non sappiamo fare altri mestieri. Non vogliamo essere obbligati a fare altro nella vita. Vogliamo una data perché siamo stremati. E ricordo sempre che non ci basta dire stiamo riprogrammando le aperture. Nel Regno Unito, a metà marzo, hanno detto che il 12 aprile avremmo aperto i pub e ieri sera i pub in Inghilterra erano aperti. Siamo stremati economicamente ma anche psicologicamente. Ma siamo qui, civilmente, perché amiamo il nostro lavoro, perché vogliamo il futuro, perché il futuro siamo noi. E un altro futuro incerto è quello del petrolchimico, lo spettro della chiusura del cracking di Marghera e quindi lo stop delle materie prime a Versalis e Lion del Basel, continua ad alleggiare appunto sul petrolchimico di Ferrara. Tre regioni, tra cui anche l'Emilia Romagna, chiedono un incontro al governo. Sentiamo. Petrolchimico di Ferrara, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto chiedono ai ministri dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della transizione ecologica Roberto Cingolani la convocazione di un tavolo per la chimica. Scendono in campo anche le tre regioni su cui insistono gli impianti legati al cracking vicino a Venezia. Al petrolchimico di Ferrara, ma anche a Ravenna e a Mantova, infatti ci sono le aziende che beneficiano delle materie prime inviate dall'impianto Enia Marghera. Dopo le preoccupazioni espresse da lavoratori e sindacati di Lion del Basel e Versalis e dal comune di Ferrara attraverso il sindaco Alan Fabri, scendono in campo appunto anche le tre regioni sulla vertenza petrolchimico. L'assessore allo sviluppo economico dell'Emilia Romagna, Vincenzo Colla, chiede la convocazione di un tavolo della chimica per affrontare tutte le tematiche emerse dopo gli incontri effettuati nelle tre regioni in merito allo sviluppo e gli investimenti sui petrochimici. Data l'importanza che la chimica riveste per il paese, aggiunge Colla, abbiamo deciso di portare il confronto ai tavoli ministeriali al fine di concordare formalmente tutte le garanzie sul futuro delle attività e dell'occupazione nel settore. E parliamo adesso di un altro argomento legato proprio al giornato di Erna, eliminare le criticità e le barriere architettoniche nella nostra città per consentire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità. Con questo obiettivo è stato presentato e approvato il PEBA, questa mattina in conferenza stampa, sentiamo dunque i dettagli nel servizio. Garantire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità e all'utilizzo degli spazi collettivi. E' questo l'obiettivo del piano di eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità urbana di Ferrara, adottato dall'amministrazione comunale per la pianificazione e la programmazione degli interventi di questo ambito nel territorio urbano. Sì, oggi è un giorno importante perché l'adozione di questo piano di eliminazione delle barriere architettoniche è un atto che abbiamo voluto, come dire, arricchire di ulteriori elementi oltre alle indicazioni tecniche circa i lavori da realizzare. Abbiamo voluto, come dire, arricchire con un contributo relativo al fatto che i tecnici dovranno fare formazione, con un contributo relativo al fatto che ci sarà un controllo annuale, un confronto annuale con il garante circa i lavori fatti e che il PEBA entrerà a pieno diritto nel PUG, questo grande disegno urbanistico che interesserà la nostra città per i prossimi anni. È la prima tappa di un lavoro importante, di un lavoro necessario, di un lavoro per il quale occorre la collaborazione di tutti, ma è una prima tappa importantissima perché segna un passaggio decisivo verso quello che si dice è una sempre maggiore inclusione dei disabili e delle persone con fragilità. Ricordiamoci che non ci sono solo i disabili, ma anche gli anziani, ma anche coloro che portano il bambino in passeggino. Lo dicevo prima, occorre anche sempre più sforzarsi per un cambio di mentalità e una sempre maggior sensibilità. A spiegare le linee guida del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il dirigente del settore opere pubbliche del comune, Luca Capozzi, e la referente dell'ufficio comunale accessibilità, Grazia Giovanni. Il PEB è uno strumento di programmazione, serve ovviamente a verificare com'è lo stato delle barriere architettoniche in alcuni tratti di strada e fondamentalmente all'interno della città murata e ovviamente serve a chi si avvicina a progettare interventi di manutenzione straordinaria in quell'ambito e dà dei suggerimenti affinché si possano porre in essere e progettare degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche assieme ai normali interventi di manutenzione straordinaria. Un impegno che fa ben sperare l'organo collegiale garante dei diritti della persona disabile di cui fanno parte l'avvocato Davide Conti ed il portavoce del comitato ferrarese area disabili, Carlos Dana. Questo è un primo passo importante, l'aspettativa è che gli organismi preposti si studino molto bene la situazione e studino molto bene il progetto, il PEBA affinché poi possano mettere in pratica quanto debba essere svolto appunto perché si possa arrivare a una città vivibile completamente. Oggi è una giornata molto importante, finalmente è stato approvato un documento che è stato molto voluto dalle associazioni e diciamo che le persone disabili oggi e anche tutte le persone un po' fragili perché non solo quelle disabili hanno uno strumento in più che verrà usato dal comune per rendere la nostra città più inclusiva. E adesso andiamo nel comune di Copparo perché dall'1 all'8 agosto torna il camp estivo Tenda Summer School. Quest'anno la scuola per giovani attori ritornerà a Villa Mensa, a San Bicciallo e San Vittore dove sono stati in parte completati i restauri e dove è stato girato un video di presentazione. Vediamo. Il Tenda Summer School annuncia per l'estate 2021 la sua settima edizione e si presenta in un video che mostra il restauro di Villa Mensa dove si svolgerà il camp. L'anticipazione si è tenuta presso il comune di Copparo alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni, dell'ideatore e organizzatore Stefano Muroni, dell'attrice Cecilia Cavalcoli e del regista Filippo Romanelli. Presentiamo oggi l'edizione del 2021 del Tenda Summer School, un'edizione importante perché pur vivendo ancora in un'epoca Covid rappresenta una novità fondamentale rispetto alle edizioni degli anni precedenti. Quest'anno il Tenda Summer School ritorna a casa, ritorna a Villa Mensa. La novità è che parte della Villa ha visto terminare i lavori di ristrutturazione e di che sono stati eseguiti nei mesi scorsi, nelle settimane scorse e pertanto nella presentazione della manifestazione di quest'anno abbiamo la duplice valenza di riaprire la Villa e ripresentarla in parte restaurata a tutti i frequentatori abituali del Tenda Summer School e ai nuovi frequentatori che ci saranno. Per quello, per questa occasione, abbiamo realizzato anche un video promozionale di presentazione tanto dell'edizione del Tenda Summer di quest'anno quanto della riapertura della Villa che si mostra fino a una sua veste nuova. Per noi come Scuola d'Arte e Cinematografica Florestano-Vancini è stato un grande onore poter collaborare con l'amministrazione comunale di Copparo e poter realizzare questo video dedicato a Villa La Mensa di San Dolcello San Vittore e in qualche modo spero che questo video sia una nuova rinascita per questo edificio che è stato in gran parte ristrutturato e restaurato. Questo restauro è importante anche per gli organizzatori della Tenda Summer School, questo campus mondiale, internazionale che viene ogni anno nella prima settimana di agosto e anche quest'anno si farà e nella settima edizione la Tenda Summer School ritorna a Villa La Mensa e noi ci stiamo puntando molto su questo restauro perché quando scriviamo i nostri partner, le nostre scuole con cui siamo in collaborazione sia italiane che internazionali che non solo ritorniamo a Villa Mensa ma che abbiamo una Villa Mensa in qualche modo nuova e restaurata sotto una nuova veste, sentiamo che l'entusiasmo cresce ancora di più. Io sono Cecilia Cavalcoli e in questo video di Villa Mensa sono la protagonista, l'attrice protagonista. La cosa mi emoziona molto, ho rivisto anche poco fa il video, insomma è stato molto emozionante ma soprattutto perché non solo sono di San Biancello quindi sono molto onorata di aver fatto parte di questo progetto ma anche perché trovo che Villa Mensa sia un luogo dove tantissimi giovani hanno sempre la possibilità di riunirsi, anche persone sconosciute da tantissimi luoghi diversi dalla nostra provincia ma anche da tutto il mondo. La regia di questo sport sostanzialmente è nata dal connubio tra il testo scritto da Stefano Muroni e gli spazi e i luoghi della Villa stessa. Sostanzialmente il mio approccio registico è partito dalle immagini e le suggestioni che il testo mi dava e poi mi sono lasciato liberamente guidare dall'esplorazione della Villa stessa. E torniamo in città adesso perché questa mattina il prefetto Michele Campanaro ha convocato una videoconferenza per l'organizzazione della sicurezza in vista della tappa del Giro d'Italia che attraverserà la provincia di Ferrara nella giornata di venerdì 21 maggio. Vediamo. Il 21 maggio attraverserà la provincia di Ferrara la tredicesima tappa della 104esima edizione del Giro d'Italia. Il prefetto Michele Campanaro ha convocato una riunione del Comitato per l'Ordine alla sicurezza pubblica in videoconferenza affinché l'attraversamento della statale Sedici dal ponte della Bastia di Argenta fino al ponte sul Po di Ponte Lago Scuro si svolga in applicazione dei protocolli sanitari. Il passaggio del Giro d'Italia nella provincia estense ha dichiarato il prefetto Campanaro rappresenta sempre un appuntamento di grande fascino e richiamo per gli sportivi e la cittadinanza tutta che dovranno però quest'anno seguire il passaggio dei corridoi nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 evitando il rischio di assembramenti considerato che l'evento è in assenza di pubblico. Sarà in ogni caso una bella giornata di sport e di promozione dell'immagine di Ferrara e della sua provincia. E adesso prima di chiudere un'occhiata ai programmi della serata di Telestense. Partiamo dalle ore 20 quando andrà in onda Campania Amica News, torna con la frutta e la verdura fresca di stagione e i prodotti del mercato del mercoledì a Grisù in via Ortigara-Ferrara con prodotti ortofrutticoli purtroppo colpiti dal clima pazzo degli ultimi giorni. Alle 21.30 invece nuova puntata di Con i piedi per terra oggi, si parlerà di Made in Italy, filiere agricole e recovery fund, l'agricoltura italiana la più verde d'Europa grazie a sostenibilità e qualità si pone una domanda e cioè è pronta ad affrontare le nuove sfide in vista del Green Deal? La risposta dunque questa sera alle 21.30 su Telestense. Vi ricordo anche il nostro sito telestense.it e i nostri canali social, siamo presenti su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram come sempre e con questo siamo arrivati veramente in chiusura, quindi grazie ancora una volta per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.